Ciao a tutti amici bianconeri e non, bentornati sul canale questa sera ci sarà una novità post partita ore 22.30 non su questo canale cioè sul mio di Peter Pan ma bensì siamo ospiti questa sera ma prima e bentornati come dicevamo questa sera non siamo sul nostro canale ma bensì siamo ospiti del nostro amico bianconero the black and white metto il link in descrizione così potete cliccare andare direttamente sul suo canale e iscrivervi questa sera parleremo nel post Juventus Protone alle 22.30 come vi faccio vedere la miniatura eccola qui vedete qua sotto questa qui lui è the black and white e c'è anche il nostro amico leone bianconero questa sera con noi ragazzi quindi non potete mancare faremo una live condivisa in tre io penso che ce ne saranno anche altre dopo questa qui e niente ragazzi che dire vi aspetto vi aspetto in tanti iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessun video mettete un like al video ormai che siete arrivati fino a qui che dire vi aspettiamo questa sera ripeto eccola qui the black and white quindi andate qui link in descrizione cliccate vi manda direttamente sul suo canale questa sera 22.30 non mancate non mancate non mancate e fino alla fine forza Juve un saluto da peter 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 p